Anzi tra l'altro bisogna arrivare prima possibile per ritratti sul casino dell'Inter Milan. Vai a che inizia fede... Che scampo... Guardalini è l'uomo di classe... Chi è che ha messo la maglia numero 10? Allora, per favore non iniziare... Oh, io l'ho fatto così, se non ti va bene vai a vedere le partite in televisione. Grazie a tutti. Marcatelo doppio, marcatelo doppio. Va Filippo! Passala però, dai Filippo, coraggio. Attenzione. Filippo! Tomi sei troppo avanti, Filippo! Aiutatelo! Va Filippo! Vai 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 Filippo! Viva Filippo! Che è il segnato Borreale. Genoa? Dai che bella! Dai che bella questa! Vai! Va! 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 Come cazzo si fa? Ma butta la via, no? Buona, buona, dai c'è! Bravo! Sì! Ciò che la voleva fare! Musica! Vai Filo, vai! Tagliala, bravo! E non provano da fuori un tiro, cazzarola? Non lo so! Bello, bello, bello! Buona, buona, buona! Vai, Sam! Buona! Bravo, Filippo! Bravo, un brutto cinque. Ah, quale in fondo, pensavo che dicevi la bambina io. Pensavo che dicevi la bambina io. Non penso che sia, non lo so. Dai, caro, rovesciata! Dai, caro, fai una rovesciata! Secondo, Davide, secondo! Guarda! Taglia! Uaah! Stai fischiando bravo. Dai, caro! No! 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 Un cazzo di palo ha preso. Vieni! Vieni! Che palo ha preso! Che sfiga questa, eh! Vecchio! Una femminuccia, eh! Bravo! Sì, una cagnolina. Puccia. Vieni! 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 1-1 il Sarmazzano con il Metanopoli No, ancora no Sarmazzano-Metanopoli Cos'è che ha fischiato adesso? Non lo so Madame 4 ore Non, si che superficiali Non lo so Sieto non es subito? Sucrano Si sono less ill numéro Non altre tre Si sono molto Si Si Non Poi lui è ancora migliorato per vincere la partita. Goll! E vai, grandi, così, bravi. Non è in 30 secondi. E va bene, bravi però. Ma cosa significa? Va bene, va bene. Grazie a tutti.